Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Cosa? Eh lo so, dovevo uscire alle 7, è uscito un po' in ritardo, non è che dovete stare lì appunto, chiedo scusa, chiedo scusa, io sono un uomo, quindi chiedo scusa quando sbaglio in questo caso, avete ragione voi, va bene, va bene, comunque buon primo maggio, like se volete rispondere con anche a te famiglia, quindi grazie a chi lo farà. Signori, siamo qui a parlare di allenatore Milan, tanto per cambiare, perché ragazzi è inutile girarci intorno, si uno può vedere notizie legate all'attaccante, al median, all'incontrista, a quello che sostituirà Kier, ma poi stringi, stringi, quello che ci interessa è sapere chi sarà il nuovo allenatore. Poi tutti gli altri discorsi verranno da sé, però è inutile star qui a pensare ad alcune tipologie di giocatori che magari per il modulo dell'allenatore che sarà non saranno neanche giocatori funzionali. Ecco perché sto tergiversando abbastanza nel valutare possibili giocatori da Milan. Volevo fare ad esempio un video con tutti i parametri zero disponibili, capire a chi potrebbe puntare il Milan, però anche lì che senso ha se non so chi sarà l'allenatore della prossima stagione. Comunque mi sono fatto un giro sul web per vedere un attimino tutti gli allenatori accostati al Milan le situazioni attuali, perché vi ricordate c'era anche Xavi che poi ha deciso di rimanere al Barcellona nonostante avesse annunciato il suo addio un po' di mesi fa. C'è Van Bommel, un altro allenatore accostato al Milan, che sul proprio profilo X, vado a dire vecchio Twitter, ha praticamente annunciato che lascerà l'ambersa. Questo non significa che verrà il Milan, no, però visto che è in orbita Milan anche lui vi segnalo questa cosa qua. Poi cos'altro? Chi c'è? Chi c'è ragazzi? Io l'altro giorno, ieri, vi ho parlato di Sarri. Secondo me non sarebbe neanche male come alternativa. È ovvio ragazzi che ne parlavo anche ieri con Stefano su Whatsapp, no? Bisogna capire il Milan che profilo di allenatore vuole, perché obiettivamente tutti quelli che sono in orbita Milan adesso, o che forse sono in orbita Milan, perché non sappiamo effettivamente chi il Milan ha contattato e chi no, sono allenatori decisamente diversi come modulo, come idea di calcio, ma anche banalmente anagraficamente parlando. Un conto è prendere un 40enne De Zerbi, 42enne, 43enne, un conto è valutare Conte che sta sui 50, un conto è valutare Sarri che sta sui 60. Capite che anche questo fa tutta la differenza del mondo, no? E quindi ecco perché sono convinto che tutto sto valser di nome intorno al Milan in realtà è più figlio delle vendite giornalistiche che dal reale interesse del Milan su alcuni allenatori. Però visto che non sappiamo effettivamente chi il Milan sta valutando e chi meno, è ovvio che anch'io parlo un po' di tutti e valuto tutte le alternative che ci sono. Lopetegui, come abbiamo detto, era sicuramente il nome più vicino e penso che qui sia abbastanza reale e fondata come notizia. Poi c'è stata questa insurrezione social dei tifosi del Milan e pare che questa insurrezione abbia avuto i suoi effetti perché insomma Lopetegui è stato... Poi non so se, come dire, la pista Lopetegui è scemata perché il Milan ha visto questa reazione o banalmente perché Lopetegui ha visto la reazione dei tifosi del Milan e ha detto tant'è che pare che, notizia delle ultime ore, sia più vicino al West Ham quindi rimarrebbe in Premier League che gli offrirebbe anche più soldi quindi vi ripeto, secondo me la pista Milano-Lopetegui era calda più che mai questo dietrofondo non so se è arrivato da parte del Milan o da parte di Lopetegui stesso non mi stupirei in entrambi i casi. Un nome che io vi ho fatto poco, nel senso nell'analizzare chi potrebbe venire tra tutti gli allenatori in lista c'è quello di Tiago Motta io ve ne ho parlato poco ho anche espresso poco favore nei suoi confronti non perché non mi piaccia ma perché davo per scontato che ormai fosse un promesso sposo della Juventus quindi quando io ho fatto il nome di Sarri molti mi hanno detto Dani ma è possibile che dopo Conte tu pensi subito a Sarri e magari non pensi a un Tiago Motta? Ragazzi a me Tiago Motta piace tanto ve l'ho detto più volte e in più salse che quest'anno ha fatto un ottimo lavoro a Bologna non solo a livello numerico riportando anche insomma il Bologna in Europa e chi lo sa magari addirittura nell'Europa che conta vale a dire la Champions League che sarebbe un traguardo storico per il Bologna ma facendo bene, giocando bene con un calcio assolutamente moderno sapete che io non sono un tattico ma amo ascoltare chi di tattica se ne intende mi sto appassionando tantissimo e ho visto, sto vedendo in Tiago Motta delle soluzioni tattiche assolutamente moderne che immaginati in ottica Milan mi fanno gola che è una bellezza Tiago Motta è riuscito a valorizzare tantissimi giocatori e quindi questo valorizzare potrebbe anche rientrare un po' come dire, nelle priorità della società perché è un po' quello che vuole il Milan avere un allenatore che riesca a valorizzare i giovani o a rivalorizzare anche un po' i meno giovani quindi sotto questo punto di vista lui sarebbe perfetto e poi appunto hai un calcio moderno offensivo che a me sinceramente stuzzicherebbe tantissimo è ovvio che lì poi no? uno sognare per sognare come dire sogna addirittura l'accoppiata Tiago Motta-Zierse secondo me Zierse ora non so quali squadre effettivamente siano interessate al giocatore ma è ovvio che se Zierse avesse l'offerta secondo me dalla Juve dal Milan e sai che Tiago Motta va alla Juve sai che Tiago Motta va al Milan secondo me lui è il primo che vorrebbe seguire lo stesso mister perché è stato colui che ha creduto nel giocatore e colui che l'ha valorizzato tantissimo e quindi pensata ad un'accoppiata cioè sarebbe veramente secondo me tanta tanta roba riuscireste a risolvere il problema della panchina e il problema della punta centrale però adesso stiamo veramente fantasticando ad occhi aperti quindi vi ripeto e vi ribadisco che se Tiago Motta non l'ho considerato tanto è perché ero convinto che fosse molto molto avanti con la Juve qualcuno di voi giustamente mi ha fatto notare anche che in realtà la Juve ha un bel po' di problemi a parte che non si sa anche lì se Allegri andrà via o rimarrà perché tantissimi lo vorrebbero via ma sono anche tanti i pro Allegri nonostante tutto Allegri come Pioli ha un altro anno di contratto però se per Pioli il contratto si aggira sui 4 milioni di euro per Allegri sono 8-9 milioni di euro netti buttiamoci dentro anche il caso CR7 comunque la Juve dovrebbe versare quei famosi quasi 10 milioni di euro all'attaccante portoghese e quindi insomma a livello economico la Juventus non è messa benissimo e questo magari sono piccoli dettagli che potrebbero effettivamente chi lo sa portare la Juve a tenere Allegri non si sa poi dipende anche lì dal tipo di accordo che riusciranno a trovare con Allegri così come anche il Milan con Pioli una buona uscita o un qualcosa lato Pioli ad esempio mi auguro che si riesca a trovare un compromesso logico per liberarlo senza rancore cioè ora non dico che deve andare via gratis è giusto che prenda una buona uscita perché ha un altro anno di contratto lui potrebbe impuntarsi e dire io ho un anno di contratto vuoi prendere un altro allenatore? fotte sega io rimango sotto contratto per un altro anno secondo me Pioli non farà questo troveranno un compromesso sempre che andrà via ocio ocio signori ocio perché perché stanno diventando sempre di più le persone che dicono vabbè ma a sto punto a sto punto ci si tiene Pioli non ha fatto male tutto sommato secondo in classifica queste persone che erano un po' scomparse dopo la doppia sconfitta con la Roma in Europa League dopo l'ennesimo derby perso con tanto di scudo cose che già sappiamo erano un po' sparite quelle persone adesso dopo il discorso Lopetegui visto come il male assoluto adesso stanno riaffiorando un po' queste persone qua lo stesso Sacchi lo stesso Arrigo Sacchi proprio oggi ha detto perché non tenere Pioli considera la sua esperienza positiva ha vinto lo Scudetti in una società che spende meno dalle avversarie e qui è da vedere sinceramente nel senso che il Milan lo scorso anno ha speso e che ha speso e quest'anno dovrebbe arrivare secondo in più sarebbe importante capire chi ha scelto i giocatori del Milan perché se li hanno scelti i dirigenti allora la responsabilità sono da dividere a metà io penso che Pioli meriti rispetto per quello che ha dato e per come si è comportato è un allenatore che ha saputo migliorare il Milan le cazze e mazzi ma su questo io sono d'accordissimo però caro mister Arrigo Sacchi cosa significa? bisogna capire chi ha scelto i giocatori già se si parte da questo presupposto che il nostro mister non abbia voci in capitolo sulla scelta dei giocatori già qui è grave già solo per questo per me è un allenatore da prendere e mandare via se non può entrare nelle dinamiche legate al mercato voglio pensare che non sia così voglio pensare che il mister abbia dato il suo consenso a prendere tutti i giocatori che abbiamo preso la scorsa estate anche se c'è il solito discorso di aver preso un sacco di mezzali quando invece abbiamo giocato a due in mediana anche qui un grande mistero incredibile che non capirò mai perché non è che abbiamo cambiato modulo dopo sei mesi praticamente abbiamo fatto tre partite col 4-3-3 e poi siamo ripassati subito al 4-2-3-1 quando invece abbiamo impostato tutto il mercato praticamente sul 4-3-3 detto questo ragazzi vi ripeto per me sarebbe un suicidio ora come ora andare avanti con Pioli ma vi ripeto non perché lui sia il mal assoluto ma perché credo che abbia dato tutto quello che ce l'ha da dare riconoscenza tutto quello che volete ma adesso non so voi ragazzi ma io ho bisogno di freschezza ho bisogno di freschezza ovviamente ho bisogno di un allenatore che sia motivato che sia motivato e che e che riesca a come dire dare quella quella carica a tanti giocatori che ultimamente sinceramente ho visto per forza di cose un po' un po' più afflosciati diciamo così che sono mancati anche i momenti clou della stagione quindi sono convinto che un cambio ora come ora soprattutto adesso e a fine stagione con l'inizio della stagione non può che essere positivo per il Milan e ovvio dipende ragazzi anche da chi ti prendi il sogno per me resta conte se effettivamente De Zerbi non ha firmato con la Juventus nessun precontra De Zerbi scusate Tiago Motta non ha firmato nessun precontratto con la Juventus sarebbe una ghiotto occasione quella di prendere Tiago Motta anche lì non hai garanzie di vittoria così come non hai garanzie di vittoria neanche con Conte così come non avresti garanzie di vittoria neanche con Sarri però stiamo parlando di tre allenatori con più o meno esperienza comunque di spessore l'unico che a livello di modulo si adatterebbe un po' meno è sicuramente Conte però credo che se lo prendi inizio stagione poi ci sarà tutto il modo di fare il mercato e di adattare e trovare giusti compromessi anche con le posizioni Sarri non mi dispiacerebbe Tiago Motta mi stuzzicherebbe ancora di più perché sicuramente vuoi o non vuoi più motivato banalmente rispetto a un Sarri più moderno più all'avanguardia poi quella accoppiata lì mi farebbe veramente sognare detto questo vi saluto vi ringrazio forse ci vediamo più tardi vediamo se oggi usciranno due video oppure solo uno se c'è qualcosa a dire sicuramente io ci sarò vi lascio tutti i link iscrizione shop merchandising eccetera eccetera vi ringrazio ancora buon primo maggio a tutti voi ciao